Il parco di Sonsvec in Olanda Il modellato classico si ispira a Ile de France, nata per il transatlantico che porta questo nome. Modellato sommario e drammatico nella Donna che cade, di Votrouv, nato in Australia, figlio adottivo d'Europa. Più narrativa la scultura dell'olandese Bezeler, con allegoria semplice e illustrativa raffigura la liberazione. Marie Andrissen simboleggia nei duri spigoli della pietra tagliata a picco il soffrire dei campi di concentramento. Molte cose ha lasciato da dire la recente tragedia, lo dimostrano le tre donne sotto un attacco aereo di Henry Moore.